Il mondo esterno è costituito da tutti quei contesti reali e virtuali che non fanno parte strutturalmente dell'istituzione in cui il nostro corso si colloca, ma che possono contribuire utilmente all'esperienza di insegnamento e apprendimento. Il mondo esterno offre l'infa vitale alle attività di produzione e trasmissione della conoscenza e quindi da tenere in forte considerazione se si vuole innovare un corso. Ma per comprendere al meglio tutte le possibilità che il mondo esterno offre in termini di attori da integrare nella nostra rete, contenuti da far circolare tra i nodi, attività da lanciare e canali per supportare tutto il processo, ci chiediamo con chi possiamo confrontarci per ottenere contributi da integrare nella nostra rete. Per sistematizzare le idee ci rifacciamo al modello della quadrupla elica, un'interpretazione sistemica che prende le mosse dalla più nota tripla elica e che vede la collaborazione tra università, industria, governo e società al fine di produrre innovazione. Proprio questi sono gli elementi che integrati nella nostra rete dell'apprendimento possono apportare contributi in termini di attori, contenuti, canali e attività. Ma focalizziamoci ora sugli attori del processo. Testimoni all'aziendali, esperti di un particolare tema di ricerca, docenti di altre università, sono solo alcuni degli attori che potrebbero entregarsi nell'esperienza di insegnamento-apprendimento. Potrebbero supportare il raggiungimento di specifici risultati di apprendimento attesi fornendo una visione alternativa. A livello di contenuti il mondo esterno offre innumerevoli possibilità sia attraverso canali fisici che attraverso canali digitali. Ad esempio i Massive Open Online Curses offrono numerosi contenuti digitali. Essi sono prodotti sia da altre università che da governi, industrie e società civile. Il loro numero è in continua crescita. Sui vari provider di MOOC possiamo trovare da corsi più grandi a corsi più brevi e una delle possibilità è di integrare anche solo una piccola parte dei contenuti all'interno del nostro corso. Rimanendo sempre nell'ambito dei contenuti aperti online, un'altra possibilità è offerta da istituzioni che si occupano della valorizzazione dei beni culturali che mettono a disposizione il sapere da loro conservato in forme aperte. Nel mondo anglosassone, tale istituzione sono indicate con l'acronimo GLAM Galleries, Libraries, Archives and Museum, coniato all'inizio degli anni 2000. I RISC Museum, come altri, sono espressione proprio di questo approccio innovativo per la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale, ecologico e di condivisione e collaborazione aperte. Quindi, a livello di contenuto varie sono le possibilità di integrazione. Importante comprendere come i contenuti reperiti all'esterno possano costituire una grande ricchezza e offrano un grande supporto. Potrebbero essere molto utili, per esempio, per colmare la cune di una parte della classe o fornire approfondimenti. Potrebbero inoltre facilitare sperimentazioni andando, ad esempio, a supportare esperienze di insegnamento-apprendimento di blended learning. Per quanto riguarda l'integrazione di attività, il mondo esterno offre, per esempio, competizioni organizzate da aziende e fondazioni per la ricerca di soluzioni e lo scouting di idee innovative. Tali competizioni spesso ben accolgono o addirittura stimolano la partecipazione di giovani e studenti. Un esempio specifico di tali competizioni sono le hackathon, convention di esperte principalmente del settore informatico della durata di pochi giorni, finalizzate a ideare e selezionare soluzioni tecnologico-digitali in un clima ludico e positivamente competitivo. La partecipazione ad attività offerte dal mondo esterno e strettamente collegate alla comprensione ed azione di un contesto diverso da quello educativo potrebbe risultare molto utile, ad esempio per supportare lo sviluppo di soft skills. Anche sul fronte dei canali a supporto dell'esperienza di insegnamento-apprendimento, il mondo esterno offre numerosi strumenti digitali che supportano al meglio l'interazione tra i nodi della rete. Ma quando parliamo di canali non dobbiamo dimenticare quelli fisici. Non sottovalutiamo gli spazi fisici esterni all'università, laboratori effettuati in particolare nei contesti, attività pratiche svolte sul campo, visite aziendali. Sono solo esempi delle possibilità da indagare. Spostare l'esperienza dal contesto d'aula usuale permette sia una maggiore immersione dello studente nell'oggetto di studio e ricerca, sia l'interruzione dell'iter abituale con un aumento della motivazione ed attenzione. Integrare il mondo esterno nelle attività di insegnamento-apprendimento, quindi nella nostra rete dell'apprendimento, può essere un'attività impegnativa. Una delle possibilità può essere quella di coinvolgere tutti i nodi della rete nell'attivazione di contatti con il mondo esterno. Per esempio, gli studenti potrebbero essere chiamati a selezionare e gestire contributi a livello digitale, siano essi contenuti o strumenti. Ciò potrebbe portare a un maggiore coinvolgimento nelle attività del corso e anche a una coprogettazione con gli studenti del corso stesso. In caso i contributi individuati non si integrino perfettamente del corso, potrebbero essere utilizzati come attività supplementari, approfondimenti, materiali integrativi, che permettano di andare oltre a quanto ipotizzato dal docente designer.